Sono qua, sto vedendo la luna, ma perché la riprendo stamattina? Perché alle sei e mezza era in quel punto, sopra la casa, e adesso che sono le sette e mezza è ancora lì, nello stesso punto o quasi dove era un'ora fa, cosa che diversamente ieri mattina alle sei e mezza era sopra la casa, e dopo di che, dopo un quarto d'ora, era sparita dietro la casa stessa, diversamente stamattina, come appunto mostro, è lì, dove alle sei e mezza, quando mi sono alzato, sette meno un quarto, era nello stesso punto, ecco le cose strane, perché dovrebbe andare indietro, dietro la casa, diversamente, è ancora lì, quasi da un'ora. Sono le cose strane che meravigliano, perché sono positive, e risprende meravigliosamente. Proverò a riprenderla anche più avanti, per confermarlo, ovviamente se sapevo, l'avrei fatto fin dall'inizio, avendo così la prova che testimoniava quanto ho appena detto. Anche questo è un altro segno che la natura che ci circonda comunica con noi, ma bisogna saperlo osservare, per accorgersene e capire cosa vuol dire, in quanto non comunica solo cose brutte, come ho fatto nel video ieri sera, in cui i scienziati della NASA dicono che il vulcano sottoterra che c'è a Yellowstone potrebbe scoppiare in ogni momento e distruggere la Terra, così come il video precedente in cui parlavo della nube tossica, o almeno errato, radioattiva, aria che stiamo respirando da ormai da dieci giorni, nell'Italia del nord è in buona parte dell'Europa e nessuno sa da cosa sia derivata, anche se il significato, come ho già detto, è inquietante perché l'aria che si respira ci dà la vita o ci uccide. Diversamente, la luna che sembra quasi si sia fermata sopra la finestra in cucina, esprime bene il lato positivo della vita, il lato meraviglioso di questa grande avventura chiamata vita, che in realtà nessuno sa cosa sia esattamente. pertanto adesso sono le sette e mezza e come ho appena fatto vedere la luna è ancora nello stesso posto, nello stesso punto di quando ho iniziato questo video. ecco, adesso sono le sette e trentacinque passate e la luna è ancora là, più o meno nello stesso punto che era le sei e mezza di stamattina, che era quando ho iniziato la ripresa, accorgendomi che c'era qualcosa di strano. Ecco, e mi sono ricordato che questo fatto successe tre anni fa, ed era la sera del capodanno, quando ero qua alla finestra a inviare i messaggini, più di 300 alle varie community, i gruppi al quale ero iscritto, e la luna era lì sopra e rimase per quasi 4 o 5 ore, cosa che ovviamente capì solo alla fine, per domani impossibile, e ne pare appunto il giorno dopo con degli amici. E stamattina, come evidenza dalla finestra qua della cucina, come allora, fin dall'inizio di questo breve video, è lì. Come dico sempre, la vita è una grande e meravigliosa avventura, nonostante i momenti brutti che siamo costretti a vivere. Sì, siamo costretti a vivere soprattutto a causa della stupidità di molte persone che fanno del male senza capire che così si rovinano la vita. Mentre la vita e il mondo avrebbe dovuto essere come esprime questo quadro, un mondo di sole, dove vivere, sarebbe stato bellissimo. E adesso che sono le 8 meno un quarto, ho voluto riprendere la luna che riprendevo prima, fin dall'inizio del video, con la luce spenta qui in cucina. Ecco, per far vedere che ormai il giorno e la luna è ancora dove ho iniziato a riprendere il video e soprattutto dalle sei e mezza di stamattina, quando credevo che non c'era più, in quanto ieri mattina era già tramontata dietro la casa, alle sei e mezza. Ecco, questo anche per dire una cosa, che oggi è 9 ottobre, una data vicinissima ad altre tre date altrettanto importanti, che sono quelle del 10, in cui Kim Jong-un dovrebbe lanciare il misere con la testata nucleare nel mare e nell'oceano, come hanno riferito molti esperti ai giornali. E poi quella del 12, in cui l'asteroide dovrebbe sfiorare la mattina del 12 alle 2, la Terra, passando 44 mila chilometri vicino ad essa, e chissà. E poi la data del 13, che ritengo la più importante, quella del centesimo anniversario in cui la Madonna fece vedere a Patima, a 70 mila persone, la fine del mondo. Sarà quello un giorno di svolta. e la luna, o ciò che io definisco il sole nella notte, come ho già più volte spiegato, riflettendo la luce del sole su di essa, a noi, è ancora lì, nell'alba del 9 ottobre 2017. Sono piccoli, grandi eventi, che parlano. E adesso che sono le otto meno dieci, risplende anche il sole, e la luna, stranamente, è ancora lì. Non ci sono parole, ma solo, unicamente. Sì, solo, unicamente una premonizione positiva, tra tante brutte. Il sole è là, che riflette sulla casa di fronte, e la luna, sopra. Ormai, già da più di un'ora, nello stesso punto. Quasi come se avesse voluto fermarsi, sopra la finestra della cucina. Grazie.